Il bilancio di previsione del Comune dell'Aquila arriverà in Consiglio lunedì 24 agosto, ma l'opposizione di centrodestra affila le armi ed è pronta ad accogliere e stravolgere il provvedimento con una raffica di emendamenti oltre 300, che spaziano dall'abbattimento dei costi per i Bonimenza, al servizio pre-interscuola, ai trasporti scolastici, passando anche per viabilità e opere pubbliche. Al nostro microfono Emanuele Imprudente, capogruppo di L'Aquila Città Aperta. Sì, abbiamo depositato presso la sedia del Comune dell'Aquila 370 emendamenti che vanno a coprire dei vulnus che ci sono su tre tematiche di fondo speciale. Nello specifico sono circa 300 emendamenti riguardanti gli aumenti che questa amministrazione ha fatto ai servizi individuali a domanda riferiti alle scuole, mi riferisco ai buoni pasto, mi riferisco ai servizi interscuola e pre-scuola, mi riferisco al trasporto degli alunni, aumenti vertiginosi che raddoppiano in alcuni casi le tariffe e l'esborso di soldi che dovranno cacciare i cittadini aquilani. Abbiamo creato dei fondi per poter abbattere e rendere la situazione invariata rispetto all'anno scorso. Speriamo che l'amministrazione si ascolti. Poi abbiamo strutturato un altro gruppo di vendamenti sulla sicurezza stradale, che è un altro vulnus di questa città, proponendo l'ultimazione della rotoria sulla stradale Ottanta, il famoso Vallo di Pettino, proponendo la realizzazione degli attraversamenti pedonali realzati, che hanno la doppia funzione di dissuasore di velocità e anche di mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali e poi abbiamo presentato altri emendamenti per l'ultimazione dello stadio d'Acqua Santa con la realizzazione e l'acquisto del tabellone luminoso e dei sergiolini colorati.